Splende il sole sulla stagione turistica nella riviera dell'Emilia Romagna, con un incremento tra maggio e luglio del 7,8% degli arrivi e del 5,5% delle presenze. Crescita migliorata nel semestre gennaio-luglio, che ha registrato il più 10,5% degli arrivi e il più 7,1% delle presenze. Inoltre, aumentano i vacanzieri italiani sulle coste romagnole. A rilevarlo sono i dati sul movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere fornite dall'Osservatorio regionale Union Camere, definiti dall'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, come risultati frutto di una politica fondata su strategie mirate a sostenere un'offerta in grado di rispondere all'attuale domanda. I dati forniti si basano su riscontri diretti con gli operatori e indiretti, come le uscite ai caselli autostradali, gli arrivi aeroportuali, i movimenti ferroviari, le vendite di prodotti alimentari e bevande per l'industria dell'ospitalità, i consumi di energia elettrica ed acqua, la raccolta di rifiuti solidi urbani e un periodico sondaggio su un campione di turisti nazionali. L'ottimo andamento della stagione balneare lo si deve anche alla progressiva crescita primaverile e a un inizio di stagione estiva caratterizzato da una situazione meteo molto favorevole, con temperature sensibilmente superiori alla media stagionale e una forte riduzione di nuvolosità e pioggia.